allora ciao amici di mt fishing quale miglior modo di cominciare una pescata con una bellissima cattura sono in un piccolo torrente di montagna che non frequentavo da un paio d'anni e già i primi lanci ho avuto degli inseguimenti e adesso una cattura alla prima bella buca è una stupenda fario di circa 20 centimetri e adesso la slamo e ve la faccio vedere mi bagno bene le mani perché qui l'acqua è veramente fredda ragazzi ed eccola qui una bellissima fario guardate che puntini guardate che puntini bellissima adesso la rilasciamo nella sua buca e speriamo di prendere qualcos'altro mangiata e slamata purtroppo peccato molto peccato ma in questa buca non credo ce ne siano altre sto facendo un sacco di danni perché non sono più abituato a fare questa tipologia di pesca e vabbè non importa sono trotte veramente piccolissime guardate che trottina ragazzi che trottina mamma mia guardate la piccolina spettacolare è voracissima bella ragazzi è bella altra bellissima cattura venuta in questa piccola buca l'acqua è freddissima ragazzi siamo ad agosto e l'acqua è completamente congelata l'ivrea è molto bella ho cambiato esca adesso ve la faccio vedere come vi dicevo ho cambiato esca eccola qui testina gialla e corpo nero codina arancione a 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 Grazie a tutti. 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 Tre catture in questa buca e la liberiamo di nuovo nella sua buca.